Due italiani sequestrati in Livia lo scorso luglio sono stati uccisi. La conferma è arrivata dalla Farnesina nella giornata di giovedì. Si tratta di due dei quattro italiani dipendenti di una società di costruzioni che erano stati rabiti nel luglio del 2015. Sarebbero stati uccisi durante un trasferimento alla periferia di Sabrata da parte dell'Isis. Intanto nelle ultime ore è stato arrestato l'autista che li avrebbe traditi. Intanto, secondo informazioni di intelligence, altri due operai italiani della stessa ditta sequestrati in Livia sono ancora vivi. Intanto l'intelligence italiana aveva accreditato quasi subito che gli italiani fossero stati sequestrati da una delle tante milizie della galassia criminale, un sequestro ad opere di criminali comuni e di estorsione.